Salve a tutti, oggi è giovedì 20 dicembre, sta entrando l'inverno ma è vicino al Natale, qui sono con Giuseppe Cerminare, il grande digolante di Corso Nomistrano. Vuoi fare gli auguri di Buon Natale a qualcuno Giuseppe? E' come no Pasquale, prima di tutto voglio fare gli auguri a tutti i miei clienti meravigliosi perché grazie a loro che io mi dedico alla popolazione, perché se non ci fossero loro con chi avrei a che fare. Comunque grazie a tutti i miei clienti, a tutti i miei amici, conoscenti, vi auguro un Buon Natale con tanta serenità e allegria. Grazie Giuseppe, è un messaggio di prova.